I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Termini Merese, su richiesta della locale procura nei confronti degli amministratori di fatto di due società idili con sede a Bagheria, indagati per bancarotta fraudolenta. In particolare le fiamme gialle della compagnia di Bagheria diretta dal capitano Francesco Vitolo hanno definito all'autorità giudiziaria quattro persone che avrebbero pilotato il fallimento della società idile Nuova Costruzione SRL, dirottando gran parte delle sue attività in una nuova società, gestita dallo stesso nucleo familiare. Il PM desume la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato Enrico D'Agostino a seguito della dichiarazione di fallimento della nuova costruzione SRL con sede in Bagheria, Contrada Parisi. La società in parole, esercitante attività di costruzioni di edifici residenziali e non, veniva costituita nel 2013 dai fratelli Mirko, Alessandro Salvatore e la madre Caterina Camera. La spregiudicata manovra avrebbe permesso a parere degli inquirenti di occultare gran parte del patrimonio aziendale per evitare che lo stesso potesse essere aggredito dai creditori, considerato che la società aveva accumulato un passivo di oltre 400-2000 euro, la gran parte del quale nei confronti dell'erario. Le indagini avrebbero dimostrato come gli amministratori della società fallita, nonostante questa si trovasse in uno stato di decozione già dal 2015, dopo aver affidato fittiziamente le quote societarie ad un soggetto terzo, poi deceduto, abbiano occultato le scritture contabili e ceduto due locali destinati a magazzini a un'altra società, gestita direttamente dalla moglie del reale amministratore della fallita. Tale compravendita avveniva a un prezzo di circa 90.000 euro, quindi ben al di sotto del reale valore di mercato stimato tra i 170 e i 188.000 euro.